Non ce l'ha fatta Emilio Casarotto, il pensionato travolto da un SUV a Povolaro, nel comune di Dueville, 15 giorni fa. L'uomo di 85 anni è morto dopo due settimane di agonia all'ospedale San Bortolo di Vicenza per la gravità dei traumi riportati nel grave incidente mentre viaggiava in sella la sua bicicletta in strada marosticana nei pressi del cavalca ferrovia. Un'autovettura Land Rover viaggiando nelle prime ore della mattinata sulla provinciale 248 nella stessa direzione verso San Drigo aveva urtato lateralmente l'anziano ciclista scaraventandolo violentamente a terra. L'uomo classe 1937 era residente a Monticello Conteotto.